Le Olimpiadi di Milano-Cortina potrebbero svolgersi in Francia? Sembra paradossale, ma alcune gare delle tanto ambite Olimpiadi italiane potrebbero essere disputate in Francia, Svizzera o Austria. Il governo italiano ha infatti rigettato la richiesta di realizzare una nuova pista per Bob, Slittino e Scheleton sulle Dolomiti. Può sembrare una scelta folle, ma c'è un ragionamento logico alla base di questo trasloco. Costruire la pista costerebbe almeno 80 milioni di euro, oltre ai costi di manutenzione annuali esorbitanti e all'impatto ambientale creato dal disboscamento. Gli atleti italiani che potrebbero utilizzarla una volta finite le Olimpiadi sono solamente poche decine. Ne si tratta infatti di uno sport di nicchia e molto tecnico. Il governo sta valutando quindi di chiedere ospitalità alle vicine piste di Innsbruck o St. Moritz, ma in molti hanno trovato questa richiesta ridicola. Ma secondo te avrebbe senso investire 100 milioni di euro per una gara che dura pochi giorni? Può è bene risparmiare anche il costo di un figuraccio internazionale. Scrivieni con me.